Basandosi sulla teoria Che cos'è la quarta dimensione? Commento Già negli anni venti il fisico inglese Sir Arthur Stanley Eddington, basandosi sulla teoria della relatività, giunse a concepire che tutto ciò che esiste nel presente, nel passato e nel futuro, costituirebbe un'unica realtà, la quarta dimensione, che spiegherebbe la chiaroviggenza nello spazio e nel tempo e di fenomeni fisici di compenetrazione e di apporto. L'energia eterocronica, di cui parla il cerchio esseno, con i 4.500 apporti prodotti in più di 40 anni di attività, dimostrerebbe l'esistenza di questa quarta dimensione. di cui parla il cerchio esseno, che spiegherebbe la connessione, ho cominciato, adoro la connessione di correttantica, l'energia e la tromba di fronte, la connessione delle tante порtate e le rallimento delle tante, è una migliore dell'energia, Grazie a tutti.